Bentornati su MyFootballGersey, vediamo la seconda maglia della Juventus in edizione player, l'avevamo già vista ma la rivediamo perché è veramente molto bella. Alla prossima! Cosa ne pensate? Io mi sono innamorato di questa maglia. Il costo lo vedete qui sopra? Beh, questo fa ancora più innamorare. Qua sotto vi ricordo che trovate tutti i riferimenti per ordinare la maglia. Andate a vedere perché c'è anche un link per ottenere un coupon da 3 dollari, quindi il costo diventa ancora più basso. Prima di lasciarvi la parte finale, mi raccomando, iscrivetevi al canale. A voi non costa nulla, ma ci permette di offrirvi sempre nuove recensioni. Per oggi è tutto, alla prossima! Io sono alto 1,75 m e peso 70 kg circa. Quella che vedete è una taglia large della versione player. Il costo diventa un'intera della versione player. Grazie a tutti.